Ho iniziato a giocare a hockey nel 2008, quindi 11 anni fa, adesso ho 18 anni. Ho scelto l'hockey, che era un po' per caso, perché ho iniziato sotto consiglio di mia madre, perché mio nonno già giocava a hockey, mi ha detto, vuoi trovare un nuovo sport e niente, ho accettato. Ho iniziato in attacco e ora in difesa. Quest'anno gioco nell'Elite con il Verona e in Serie A con il Molleano. L'hockey mi ha insegnato il rispetto dell'avversario, sicuramente, e anche un po' a comportarmi fuori dal campo. Mi ha spinto a partecipare l'esperienza dell'anno scorso, che è stata un'esperienza fantastica e unica, fino ad ora. Sarà difficile difendere il titolo, ma noi ci troveremo fino all'ultima partita.